Se vuoi la pace, prepara la guerra. Baperù! Chi va con il soffro? È l'ultimo. Ma che cazzo! Adesso fa 30 secondi, vanno a venire a fanculo. E lasciate tutti i soldi sul tavolo. Lo voglio fare con te la prima volta. Non mi fido di un ragazzino deficiente. Ma tu stai fuori. Se qualcuno la tocca, io divento matto. A proposito che lavoro, sabato ce la fa? Libero come l'aria? Da che si tratta? Passo a due cinesi tutti. Il vostro ragazzo, il vostro ragazzo, il vostro potrà fare. Che dove va? Il dove cammino male? Oggi dove metto a dormire? Il ritro però è un pazzo. Il vostro ragazzo, il vostro ragazzo, il vostro ragazzo è un po' мира. Il vostro ragazzo, il vostro ragazzo è un po'i piaccia. Grazie.